Italian Certificate Awards 2022, siamo in compagnia di Francesca Bastub di Goldman Sachs. Benvenuta Francesca. Grazie mille. Ecco, Goldman Sachs che ha ricevuto il premio speciale Wall Street Italia. Quali sono gli ingredienti che vi hanno permesso di vincere questo premio e se ve l'aspettavate? È assolutamente un premio inaspettato e siamo veramente molto onorati di essere qui stasera a riceverlo. Gli ingredienti del successo sono diversi. Il primo è lavorare sempre in squadra e siamo molto fortunati ad avere persone che anche dietro alle quinte ci aiutano ogni anno a trovare delle soluzioni innovative. Sono i nostri distributori che ci aiutano a portare queste soluzioni innovative sul mercato italiano. E' veramente speciale per noi riuscire ad essere qui e vedere il valore e l'importanza che ha tutto il lavoro che svolgiamo giorno dopo giorno. Ecco, giorno dopo giorno guardiamo già al futuro. Quindi quali sono le vostre aspettative per il 2023 e quali progetti avete in cantiere? Allora, sicuramente i mercati sono stati complicati l'anno scorso, sono complicati in questo momento, ma come detto cercare sempre l'innovazione è fondamentale per noi. Quindi abbiamo una grande novità che porteremo sul mercato tra pochi giorni, speriamo, e che è riservata proprio al mercato italiano e speriamo possa essere una grande innovazione per il segmento dei certificates. Grazie, grazie e ancora complimenti a Goldman Sachs per questo premio. Grazie mille.